Buongiorno a tutti, ciao Mario. Ciao Elisa. Sono qui per chiederti il meteo nei prossimi dieci giorni. In particolare voglio sapere delle piogge, perché al sud ancora non ha piovuto molto. È vero, è vero. Le regioni meridionali, ma anche quelle un po' del medio adriatico, ancora soffrono un po' di siccità. Guarda, ci sono ottime notizie, perché finalmente l'autunno sembra mostrare i muscoli. L'autunno dovrebbe essere la stagione più piovosa. In effetti, nei prossimi dieci giorni pioverà quasi tutti i giorni, soprattutto con piogge più abbondanti al nord e regioni tirreni. Ma andiamo con ordine. Prima perturbazione, in arrivo giovedì 31 ottobre, proseguirà sull'Italia anche venerdì, interesserà giovedì soprattutto la regione centrale e venerdì quelle meridionali. Seconda perturbazione, in arrivo sabato con piogge soprattutto al centro nord e regioni tirreniche, poche piogge sulle regioni però del medio adriatico, piogge poi nella giornata di domenica invece su tutta l'Italia, piogge che saranno forti sulle regioni di nord-est e tirreniche. Terza perturbazione, tra i 5 e il 6 di novembre, piogge su tutta l'Italia, piogge che saranno forti sulle Vante e Ligure e sulle regioni tirreniche. E poi la quarta perturbazione, abbiamo detto tante perturbazioni, il 7 e l'8 di novembre, ancora piogge su tutta l'Italia, piogge che saranno ancora forti sulla Ligure e soprattutto sulla Lombardia. Come vedi insomma piogge per quasi tutta l'Italia, un po' anche al sud, sarà più trascurato al sud, ma anche il sud vedrà delle piogge. Le temperature invece arriverà il freddo? Eh sì, ti ricordi ne avevamo parlato l'altra volta, sì, arriverà un pizzico di freddo proprio tra l'1 e il 2 di novembre, perché la perturbazione giunta giovedì è seguita da aria piuttosto fresca, direi fredda, tant'è che sul nord Italia sono previste tra l'1 e il 2 di novembre temperature massime sotto 15 gradi, addirittura sabato 1 le temperature potrebbero essere sulle regioni di nord-ovest intorno a 10 gradi, quindi freddo, attenzione, copritevi, poi le temperature tenderanno a risalire soprattutto sulle regioni centro-meridionali, restare nella media al nord intorno ai 15 gradi, invece supereranno di nuovo i 20 gradi sulle regioni meridionali, ma intorno all'8 o 9 probabilmente di novembre dovrebbe arrivare un'altra corrente fredda dal nord atlantico. Perfetto, grazie mille, buona giornata. Anche da parte mia.